Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, come state? Buon lunedì mattina. Oggi inizia una nuova settimana, oggi inizia la prima settimana della stagione 2023-2024 per la Juventus, perché per la prima volta abbiamo quasi tutti i tasselli per completare il quadro di quello che sarà il blocco di partenza, il nastro di partenza per la nuova stagione della Juventus. Perché dico quasi? Perché abbiamo messo da parte il discorso relativo alle varie penalizzazioni, abbiamo messo da parte il discorso relativo alle varie sentenze, quindi questo è tutto ormai nel dimenticatoio. Abbiamo messo da parte la stagione 2022-2023, ne abbiamo parlato nel video di ieri sera, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Non uscirà un video delle pagelle di questa partita, di Udinese-Juventus da 0 a 1, proprio perché oggi credo che sia più importante seguire, monitorare tutte quelle che saranno le piste inerenti all'allenatore e sono veramente convinto che quella di oggi sarà una giornata molto intensa. E poi c'è da monitorare ovviamente quelle che saranno le volontà della UEFA, quindi la Juventus l'anno prossimo giocherà alla Conference, sì o no? La Juventus avrà le competizioni UEFA bloccate per un anno, due anni, tre anni, zero anni? Vedremo. Quindi in questo momento abbiamo completato tutto quello che potevamo completare fino a questo punto e ci prepariamo ad accogliere quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione sportiva per la Juventus. Ieri parlavamo di Manna, Manna che momentaneamente dovrebbe essere promosso a direttore sportivo della Juventus in attesa di giuntoli. Ho retweetato un video, un post su Twitter, vi invito a andarvelo a vedere sul mio profilo, in cui c'è proprio lo stesso Giuntoli che abbraccia De Laurenti e gli dice grazie di tutto, l'aveva pubblicato il buon maschera e quindi ho voluto ripubblicarlo perché secondo me è abbastanza emblematica come situazione, che non significa che Giuntoli arriverà la Juventus al 100%, però significa che il rapporto lavorativo tra Giuntoli e De Laurentiis potrebbe essere arrivato a un punto morto. L'avevamo già detto, avevamo già visto diverse relazioni di Giuntoli nelle settimane scorse, ora ci sediamo e aspettiamo di vedere se Manna sarà effettivamente il nuovo direttore sportivo della Juventus a 360 gradi o se si sta davvero attendendo Giuntoli e proprio come dicevamo prima iniziano a sistemarsi alcune cose, bene, finito anche il campionato del Napoli e quindi anche qua potremmo lasciarci alle spalle un vecchio progetto sportivo con un vecchio dirigente sportivo per accogliere un nuovo progetto sportivo con un nuovo direttore sportivo che potrebbe portare un cambio in panchina, anzi porterà un cambio in panchina per il Napoli e potrebbe portare anche un cambio in panchina per la Juventus. Di cosa dobbiamo parlare oggi però? Delle parole di Allegri che non vi faccio ascoltare qui per due motivi. Il primo perché sia Sky che Adazon ha parlato per tanti minuti e quindi ci sarebbe, non lo so, un quarto d'ora, venti minuti forse di parole di Allegri e io dovrei pure commentarle. In seconda battuta perché non posso mostrarvi anche il volto di Allegri, vi invito ad andarvi a recuperare i vari post partita dell'allenatore dove comunque bisogna dare un occhio anche alla faccia, alle smorfie che fa lo stesso Massimiliano Allegri proprio perché ci sono alcuni momenti in cui è la faccia, il viso, il volto che ti fa capire determinate cose. Cerco di farvi una sorta di riassunto delle parole perché non è scontato vedere l'allenatore che va ai microfoni di un emittente di televisione di una PTV al termine del campionato e per la prima cosa dica voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, voglio ringraziare i miei ragazzi, voglio ringraziare i massaggiatori, voglio ringraziare i medici, tutti quelli del mio staff. Insomma, una sorta di volontà di lasciarsi alle spalle quella che è stata la stagione. Allegri dice sono stanco, è stata una stagione faticosa ma è stata anche una stagione bella comunque perché ci siamo compattati, abbiamo cercato di fare qualcosa di meglio, dice anche siamo arrivati terzi sul campo e arrivare terzi a 72 punti in questa situazione significa aver fatto di più anche di quello che è stato poi il risultato finale, metti in evidenza la semifinale d'Europa League, metti in evidenza la semifinale di Coppa Italia quindi queste sono le tre motivazioni di Allegri, sono le tre cose che Allegri si porta a casa da questa stagione nonostante non sia stata una stagione entusiasmante secondo l'allenatore della Juventus, il terzo posto, la semifinale di Europa League, la semifinale di Coppa Italia in questo contesto era qualcosa di probabilmente difficile da raggiungere nella testa dell'allenatore e quindi le mette in primo piano e dice queste cose nessuno ce le potrà togliere. Se da una parte capisco qual è il messaggio che vuole mandare Allegri, dall'altra non lo condivido perché comunque per come erano partite le idee della Juventus, per quelli che erano i piani della Juventus per questa stagione e per quella che era la stagione precedente, Allegri dice si è migliorato rispetto all'anno scorso, si è migliorata la posizione, non si è migliorato quello che è stato in grado di fare la squadra, di raccogliere la squadra, perché anche quest'anno si è assistito a diverse cose che hanno lasciato basiti i tifosi, anzi forse dal punto di vista del campo si è raccolto ancora meno, avremo tempo di fare dei bilanci approfonditi, ora non ho ancora avuto modo e soprattutto voglia di mettermi qui a parlare di numeri, di freddi numeri, ma stiamo parlando di due stagioni che non possono soddisfare i tifosi della Juventus, quindi questo è fuori discussione. E Allegri, attenzione, che mette in evidenza, sottolinea una cosa importante, dice io ho altri due anni di contratto, io non voglio lasciare la Juventus, io l'anno prossimo sarò ancora qui se la società lo vorrà. C'è una persona che decide tutto in questo momento, che è Francesco Calvo, quindi una sorta di passatemi il termine, specchio riflesso da parte di Massimiliano Allegri che mette ben in chiaro le cose. Io sono allenatore della Juventus, io ho altri due anni di contratto, io voglio rimanere allenatore della Juventus, poi se Francesco Calvo arriverà a dire che secondo lui è più logico cambiare e quindi verrà messo anche un nuovo direttore sportivo che insieme a Francesco Calvo riterrà giusto cambiare, allora la proprietà e quindi Elkan dovrà sborsare questi soldi per esaurare l'allenatore. Anzi Allegri ha negato anche una trattativa tra la proprietà e l'allenatore per questa recessione consensuale di cui si era parlato nei giorni scorsi di trovare questo accordo tra le due parti per liberare l'allenatore dalla panchina. Allegri dice no, io sono qui, io ci voglio essere ancora il 10 di luglio, anzi l'11 dice poi a Sky perché poi il 10 ci sono i test e l'11 si inizia con la palla, sono molto stanco, voglio andare in ferie, voglio riposarmi, vado a casa, vado in vacanza, ho la famiglia, ho il nipotino, ho i cavalli, ho tutte le mie passioni e poi da parte mia, io il 10-11 di luglio sono la continassa a riprendere il lavoro, poi come è giusto che sia la società che deve decidere. Quindi Allegri passa proprio la patata bollente, la prende la lancia e lancia un messaggio oltre che la patata bollente, lancia un messaggio e fa capire che probabilmente tra l'allenatore e la proprietà o comunque la dirigenza, comunque la società della Juventus in questo momento le cose non sono proprio messe bene, non c'è questo rapporto di fiducia, di amore, di certezza ed è incredibile quanto è cambiata la linea comunicativa di Allegri dal pre-partita di Udinese-Juventus al post-partita di Udinese-Juventus, nella pre-partita l'avevamo detto, un Allegri sicuro, un Allegri tranquillo, un Allegri deciso, un Allegri che sembra essere padrone del suo destino, io voglio rimanere qui e poi ne parleremo con la società e poi con i ragazzi faremo questo e poi faremo quell'altro, invece nel post-partita di Udinese, un Allegri toccato, un Allegri che veramente ragazzi più di un'occasione sembrava sull'orlo del pianto a un certo punto, ho pure pensato adesso si mette a piangere davanti alle telecamere perché veramente l'ho visto provato, ho visto un Allegri che faceva fatica, veramente molta fatica a esprimere determinati concetti o comunque a trattenere, a trattenere delle lacrime che potevano essere magari delle lacrime che fanno presupporre un addio da parte di Allegri. Io non so che cosa succederà, non ho idea, io vi ho già detto la mia versione, secondo me Allegri se ne andrà, è molto probabile che se ne vada, anzi sarei stupito di una permanenza di Allegri, anche se come vi dicevo nel pre-partita, nell'analisi della conferenza stampa pre-partita, chissà, magari la Juventus in questo momento è un po' indecisa se andare a sborsare quella cifra che appunto dovrebbe essere circa 40 milioni di euro per liberare l'allenatore, si va a incastrare un pochino il tutto, cioè secondo me ormai siamo arrivati ad un'analisi abbastanza chiara, secondo me è molto facile leggere la situazione anche in relazione a quelle parole di Christian Belli di cui vi parlavo l'altro giorno. Dentro la Juventus vorrebbero cambiare, avrebbero preferito una recessione del contratto da parte di Allegri con una buona uscita, Allegri non lo vuole fare, Allegri vuole fino all'ultimo centesimo o rimanere sulla panchina della Juventus, Allegri lo dice chiaramente è giusto che la società possa voler cambiare, però dall'altra parte io ho due anni di contratto e io voglio andare avanti e quindi messaggio a John Elkan, se davvero si vuole cambiare prepara questi soldi che sono già messi a bilancio, quei soldi mi spettano di diritto, saranno quelli che comunque mi porto a casa e poi tu nel caso andrai a pagare un nuovo allenatore. Quindi ora la palla passa a Elkan, la proprietà è disposta a fare questo sforzo economico e quindi questi soldi che sono già messi a bilancio per Allegri aggiungere un altro stipendio per l'allenatore e lo staff del nuovo allenatore? Sì o no? Se Elkan deciderà di farlo allora significa che Allegri verrà esonerato come da previsione, come un po' l'aria che si respira e si andrà su un nuovo allenatore. Se Elkan invece deciderà di non andare fino in fondo, di non sborsare questi soldi perché non ne vale la pena magari farsi un altro anno con Allegri, allora Allegri rimarrà in panchina. Ora ragazzi è molto chiara la situazione, cioè Allegri in più di un'occasione ha parlato di proprietà, ha fatto nome e cognome, ha parlato di Francesco Calvo, segno che probabilmente in questo momento tra i due non c'è questo gran rapporto e poi Allegri ti ha fatto capire che tutto passa dalla proprietà, sono loro che decidono perché lui semplicemente dalla Juve non vuole andarsene. È un po' anche il discorso che vi facevo nei mesi precedenti, quando mi si diceva Allegri con zero titoli sicuro se ne va, io gli dicevo secondo me è molto più probabile vedere un Allegri che se ne va con magari un titolo come l'Europa League perché di fronte a un'altra stagione a zero titoli un orgoglioso come Allegri difficilmente fa un passo indietro e quindi dà le dimissioni o comunque accetta di trattare una buona uscita. Questa è sempre stata un po' la mia lettura, poi non significa che magari domani non potremo vedere un comunicato della Juventus in cui si annuncia che è stata trovata un'intesa tra la Juventus e Allegri e quindi si separano con volontà da parte di entrambi con una buona uscita con una cifra simbolica, non ne ho idea, stiamo parlando ovviamente del nulla però mi sarei immaginato un Allegri più aperto al dialogo con una coppa in tasca, magari una coppa europea per poter salutarla a Juventus in tutta un'altra maniera. Uno testardo come Allegri in queste condizioni, due anni dal suo ritorno, zero titoli, poi una stagione come quella di quest'anno è Allegri che continua a battere quel chiodo, continua a dire sì l'infortunio nella prima parte di stagione, poi la seconda parte è andata così, io forse ho sbagliato però la stagione è stata anomala e sicuramente la stagione è stata anomala, però rimaniamo sempre a quel punto lì, dal punto di vista del campo quello che si è visto prima nella penalizzazione e quello che si è visto post penalizzazione secondo me non è accettabile per quello che dovrebbe essere lo standard qualitativo della Juventus, poi ovviamente questa è sempre la mia umile opinione, non significa che abbia ragione. Quindi riassunto dei riassunti, 40 milioni sul piatto, Elkan li tirerà fuori e aggiungerà un nuovo stipendio del nuovo allenatore e dovrebbe essere quindi il nome di Tudor, quello più accreditato, ovviamente non significa che anche in questo caso arriverà Tudor, oppure questi 40 milioni la proprietà Exor non ha intenzione di tirarli fuori e si continuerà un altro anno con Allegri e forse addirittura due perché poi ne mancherebbe solo uno. Io credo che il tifoso Juventino oggi sia molto stanco, Allegri ha usato la parola giusta, stanchezza, stanco per quello che si è visto fuori dal campo ma anche stanco per quello che si è visto in campo. Penso che non ci sia una strada che porti alla conferma di Massimiliano Allegri, credo che la Juventus in queste ore stia facendo le riflessioni, anzi io immagino anche che la Juventus queste riflessioni le abbia già fatte e se Allegri è arrivato ai microfoni in questo modo probabilmente mia lettura personale perché ha già ricevuto la comunicazione da parte della Juve che è stata la sua ultima partita da allenatore della Juventus, però ovviamente la sfera di cristallo non ce l'ho, soffiate non ne ho e quindi posso semplicemente raccontarvi un po' quelle che sono le mie sensazioni. Ragazzi appuntamento nel pomeriggio perché sicuramente oggi è una giornata calda da monitorare, ci tenevo ad analizzare per partire questo lunedì mattina le parole di Allegri di ieri e cercare di capire anche quello che c'è stato dietro a una sorta di quasi pianto alle telecamere da parte allenatore, segno che proprio a livello emotivo c'è un po' di coinvolgimento eccessivo. Vediamo dove porterà.